Numero 1, dobbiamo sentire il pubblico, dobbiamo sentire il pubblico, vediamo di qua il pubblico Come dice? C'è chi dice 13, c'è chi dice 13, c'è chi dice 11, dice la numero 1, parte anche la vostra musica più spara 12, c'è chi dice 13, c'è chi dice 11, 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 c'è chi